Eccoci, tornati in Val Morel, questa volta proviamo il percorso della corsa in montagna, avevamo visto assieme a Mirko Tabacchi e Giorgia Marchet il percorso della mountain bike ed oggi con il campione della corsa in montagna bellunese Luca Cagnati siamo qui in particolare nella zona del Monte Gall, la zona delle Malche proprio, a vedere, a scoprire insieme il percorso e a sentire i pareri di un grande campione di casa nostra? Il percorso è molto bello, molto vario, è un po' quello che serve a questo punto della stagione diciamo perché è un percorso veloce, divertente e quindi a questo punto della stagione quando di solito si è molto stanchi e non si ha più tanta voglia di fare gare è proprio quello che ci serve. Poi è bello essere qua in questo posto così curato dal punto di vista della natura e niente speriamo che anche sia una bella giornata di sole come lo è oggi. Ok allora una volta provati i due percorsi bike e run io sono qui a rinnovarvi l'invito per partecipare alla nostra run bike delle Malche, il mountain duathlon di Val Morel, l'appuntamento non dimenticatelo è domenica 8 di ottobre e lo start verrà dato alle 10.30 puntuali in piazza Val Morel, le informazioni le potete trovare tutte all'interno del nostro sito www.valmorel.it seguite anche la nostra pagina facebook dove ci sono tutti gli aggiornamenti da qui all'8 di ottobre a correre o andare in altalena